Le pattumiere a pedale New Icon di Brabantia sono disponibili in tanti e bellissimi colori e in molte misure. Questa pattumiera a pedale da 5 litri è perfetta per il bagno, la toilette o la camera dei bambini. Il pedale si aziona con facilità e il coperchio con chiusura anti-odori si chiude lentamente e in silenzio. I sacchetti Perfect Fit di Brabantia hanno un codice a colori. Controlla il codice a colori all'interno della pattumiera Brabantia per verificare che la misura sia corretta. Per questa pattumiera utilizzare i sacchetti Perfect Fit di Brabantia della misura W con il pratico nastro di chiusura. I sacchetti possono essere fissati con facilità in modo invisibile. Il secchio interno rimovibile in plastica è facile da pulire. La base antiscivolo offre la massima stabilità e protegge il pavimento da eventuali danni. La pattumiera a pedale New Icon ha una capacità di 5 litri. Ha un diametro di 20,5 cm e una profondità di 27,2 cm. Quando il coperchio è chiuso è alta 29,1 cm e quando è aperto è alta 47,1 cm. La pattumiera a pedale New Icon è disponibile in vari colori e dimensioni. È progettata per essere usata tutti i giorni ed è coperta da garanzia e assistenza Brabantia per 10 anni.